Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove! Nove! Ho fatto nove! Le fa per hobby le foto? No, per professione. Le piace? Questo giovanotto ti ha fatto una domanda. Nelle giornate buone. Perché? 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 Non te lo dico, non mi fido di te. Tu diresti una cosa del genere a tua madre? Cosa vede? Figurati, cosa vuoi che veda? È solo uno scudo che la separa dal resto del mondo. Vedo te molto chiaramente. Fotografare matrimoni è questo, è il tuo futuro. Questa vede quello che dico io. Di volta in volta scopre l'animo delle persone. Vede quello che hanno dentro, se si lasciano andare. Se sono fortunata, mi mostrerà anche i loro segreti. Li porterà allo scoperto uno ad uno. Questa non l'ha vista però. Il caos, figlia adorata. Devi aprire le braccia e lasciare entrare il caos. Non fare questo risino, il caos è uno dei tuoi migliori amici. Ho visto la tua camera da letto. Beh, che c'è di divertente. Bravo, ridi anche tu, coraggio. Trove tutto questo. Ho scoperto! Sì!